12 ottobre 1492. Dopo 33 giorni di navigazione, le tre caravelle guidate da Cristoforo Colombo toccano una terra che viene da lui ribattezzata San Salvador. L'esploratore genovese crede di essere giunto nell'Asia descritta da Marco Polo nel milione, ma è in errore poiché in realtà ha scoperto un nuovo mondo. Colombo nacque nel 1551 a Genova.